Noi dobbiamo rendere evidente nel meccanismo fiscale in Italia che le tasse vanno applicate prioritariamente all'uso delle risorse e secondariamente al lavoro. Oggi sostanzialmente le tasse sono tutte sul lavoro con un carico rilevante per le imprese. Se invece noi cominciassimo a spostare una parte della fiscalità sull'uso delle risorse, per esempio l'acqua e l'energia, avremmo come risultato pratico che pagano più tasse quelli che consumano di più e ne pagano meno quelli che invece sono più efficienti. Questo peraltro è l'indirizzo europeo e anche l'indirizzo dell'Ocse che viene riportato in questo rapporto. Avevamo già presente questo schema di riforma fiscale nella delega fiscale che abbiamo presentato al Parlamento. Purtroppo il Parlamento non ha avuto il tempo per approvarla. Io mi auguro che nelle prossime settimane il nuovo Parlamento riprenda in carico questo disegno di legge e lo approvi.